Riparbella, a 14 chilometri dal mare di Cecina, merita una visita per calarsi nell'atmosfera di un tipico paese toscano, che si distingue con un panorama di rara bellezza. Riparbella offre un'ampia scelta di piatti tipici. La trattoria del papero propone il piccione alle bacche e il tagliolino al gallo. Alla piazzetta potete trovare grigliate di mare, frittura e anche la pizza. Sono al bar centrale, che è il punto d'incontro della vita cittadina. Proprio all'inizio del paese, il ristorante in cantina propone le pene al coniglio e il pollo alla cacciatora. Relax e silenzio nel parco giochi dell'Olivetta. Il ristorante propone un'ottima pizza e il brasato di chianina con polenta. E per finire, l'agriturismo Borgo San Pecoraio, con l'accogliente ristorante a bordo piscina, propone la tagliata di tartufo. E per finire, l'agriturismo Borgo San Pecoraio, con il ristorante a bordo piscina, propone la tagliata di tartufo. E per finire, l'agriturismo Borgo San Pecoraio, con il ristorante a bordo piscina, propone la tagliata di tartufo. Grazie a tutti. 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 Abbiamo scoperto Bolgo Ferciaione, un agriturismo elegante immerso nel verde. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.